Come sono arrivato a questo? È una bella domanda! La J-Pop mi ha inviato un pacchetto speciale in vista dell'uscita del manga My Charms Are Wasted di Ran Kuzze che uscirà nelle fumetterie e librerie store online mercoledì 10 aprile, oggi. Ed è qui che entra in gioco la scena di prima perché al suo interno oltre a trovare un ragazzo che quasi cita la frase simbolo del canale La Mente Trema c'era anche un biglietto in cui venivo invitato prima di leggere il manga a fare un test di resistenza. Test 1 Prendi la busta Educazione Fisica con Mona Chan Per prepararti alla prova devi fare 20 flessioni 20 flessioni! Chi vuol fare 20 flessioni? Aspetta un attimo, chiedono ad Anime Souls di farle, non a me. Ho un'idea Forza Anime Souls, spingi, ce la puoi fare! Continua così! Probabilmente ho perso il conto, ma continua così! Ok, le faccio sul serio adesso O almeno ci ho provato Insomma Apro la busta numero 1 e voilà, una cartolina guadagnata! Test 2 Apri la busta Disegno con Mona Chan Mona è in posa solo per te e disegna il suo ritratto riproducendola in tutta la sua bellezza Va bene O almeno anche qui ci ho provato varie volte Poi mi sono lasciato leggermente trasportare Ma, ma leggermente! Però adesso hai baffi, quindi è tutto guadagnato Test 3 Prendi la busta in cosplay con Mona Chan Mona Kawaii si sta preparando per il festival scolastico Anche tu non dovrai essere da meno Indossa quindi le orecchie da coniglio e apri la busta Ed eccoci qui all'inizio del video Aiutatemi Ma almeno ne valsa la pena per questa cartolina Molto, insomma, kawaii Bene, i test sono finiti ed ora posso finalmente leggerlo e raccontarvelo Una bellezza stupefacente Un fisico mozzafiato Mona Kawaii fa strage di cuori a ogni respiro Ma con l'arrivo di Medaka Kuroiwa Un nuovo studente che non la degna neanche di uno sguardo La sua vita scolastica cambierà radicalmente Eppure per tutta la vita ho sempre avuto chi mi sbavava dietro La missione di Mona diventa quindi farlo cadere ai suoi piedi Anche a costo di usare tattiche... Un po' estreme La guerra sentimentale tra la ragazza super popolare Il ragazzo che non vuole cedere alle passioni ha inizio E con estreme intende mostrare la biancheria e atteggiarsi in maniera provocatoria Ma il motivo per il quale Medaka evita in tutti i modi questi suoi atteggiamenti È perché è il figlio di un abate buddista E quindi ha il divieto assoluto di fraternizzare con le donne Anche se sta per cedere Ed è abbastanza comprensibile come cosa Ma lui deve seguire la via del Buddha Ed evitare l'amore carnale poiché è proibito dai suoi precetti E quindi tra ombelicchi e vestiti da coniglietta Lei che ormai si è preso una cotta per lui Riuscirà a conquistare questo unico ragazzo che non la degna di nota O almeno evita di guardarle quando non ci riesce e fa una faccia arrabbiata Beh lo scopriremo Perché ho l'impressione che avremo tante scene abbastanza particolari Sia da leggere che Guardare 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 Grazie a tutti.